Oltre 1200 atleti di 15 paesi si sono sfidati nella prima edizione del Challenge Rimini. Sul gradino più alto del podio sono saliti il plurimedagliato Chris McCormack e l'ungherese Erika Smor. Il triathlon è stato quindi il protagonista indiscusso di questo weekend riminese fra sole e pioggia. Nulla però ha fermato gli uomini di ferro che fra corsa, nuoto e bici hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente. Nonostante ripetuti avvisi del comune alla vigilia della manifestazione in merito alla chiusura del lungomare al traffico nel tratto da piazzale Fellini a piazzale Boscovici, non sono mancate file chilometriche e traffico in tilt fra Rimini e Riccione. Molti automobilisti non hanno seguito il consiglio di girare a piedi o in bicicletta e non sono mancate le polemiche di alcuni di loro, alterati per la chiusura al traffico veicolare del lungomare. Il Challenge Rimini chiude comunque la propria prima edizione con un grande successo di pubblico. È una certezza, Rimini si conferma capitale dello sport.